Nel video 86 abbiamo mostrato i limiti della scuola del primo Settecento. Ricordiamo che sia a Milano sia nelle campagne esisteva una discreta serie di servizi scolastici, ma del tutto privi di coordinamento e organizzazione. La riforma della scuola fu promossa da Maria Teresa, proseguita da Giuseppe II e completata da Leopoldo II, portando alla nascita della moderna scuola primaria o elementare, gratuita e pubblica. Mentre nel resto dell'impero la riforma scolastica fu ideata dall'abate agostiniano Johann Ignatz von Felbiger. La Lombardia invece si mosse in modo separato, in quanto territorio da poco conquistato è caratterizzato da un alto numero di abitanti. La riforma scolastica prese avvio nel 1766. Come per il Catasto fu svolta una lunga indagine sulla situazione delle scuole pubbliche e private in Lombardia. Con queste informazioni, nel 1774, la sovrana diede mandato all'abate Giovanni Bovara di approfondire lo stato delle scuole in una piccola area lombarda, tra Lodi, Cremona e Casal Maggiore, visitandole personalmente e quindi di redigere una bozza di riforma scolastica. Giovanni Bovara nacque nel 1734 a Malgrate, oggi in provincia di Lecco. Insegnò nelle scuole Palatine e al Ginnasio di Breva a Milano e fu insegnante di istituzioni canoniche presso l'Ateneo di Pavia. Di solida cultura ecclesiastica fu anche un discreto poeta, membro dell'Accademia dei Trasformati e amico del Parini. Bovara era un sacerdote oblato dei Santi Ambrogio e Carlo. Ciò nonostante fu ben contento della soppressione dell'Ordine dei Gesuiti, che considerava pedanti e retrogadi. E veniamo al dunque di questo video, amici del Bruco, che nasce da una ricerca pubblicata da Carla Folli Sfregola nel 1982. Massimo, cosa scrisse Bovara nella sua relazione finale al governo di Vienna datata a maggio 1775? Bovara era convinto dell'importanza dell'insegnamento in lingua italiana, superando il latino, di riformare i libri scolastici del tutto inadeguati al progresso, introducendo anche lo studio della geometria e della storia naturale, ed infine di valorizzare i docenti abili, rinnovando anche la didattica. Aria fritta? Mica tanto. Il corso del Bovara al ginnaggio di Brera era di gran lunga il più frequentato dell'Ateneo. Il Bovara visitò per prime le scuole di Casal Maggiore nel 1774, poi di Cremona e di Lodi nell'anno seguente. Con quali conclusioni? Trovò che la scuola era in uno stato pietoso. Le poche davvero funzionanti erano quelle private. Le scuole pubbliche erano pochissime. Sulla carta erano gratuite, ma in realtà ogni alunno doveva pagare lo stipendio del proprio maestro. Quasi nessuna famiglia povera inviava i figli a studiare. Non si usava la lingua italiana, ma il latino. E infine non esisteva alcuna scuola che avviasse al commercio, e molti borghi non ne avevano alcuna. Gli insegnanti, laici o religiosi, erano quasi sempre ignoranti e ottusi, e comunque mai approvati da qualche organo statale. E ciò generava i seguenti problemi. Si insegnava a leggere il latino con pronuncia errata. Si insegnava a scrivere con una pessima calligrafia. Quasi nessuno insegnava in italiano, e se ciò fosse avvenuto lo si sarebbe insegnato in modo sbagliato. Le materie di algebra e matematica erano insegnate nelle classi di latino. Ogni scuola insegnava il latino con regole grammaticali diverse. I fanciulli si annoiavano enormemente per la pedanteria degli esercizi ripetitivi. Ogni insegnante decideva autonomamente l'orario di servizio, i giorni di lavoro e l'onorario. E spesso cambiava idea nel corso dell'anno. L'unica cosa che importava a tutti gli insegnanti era di sapere bene il latino, non altro. Come riformare la scuola? Il Bovara sconsigliò di affidare le scuole ai frati, come si stava pensando in quegli anni. Essi erano numerosi e adatti al ruolo, ma avrebbero messo nella maggior parte dei fanciulli uno spirito monastico, meno conforme agli avanzamenti della nazione. Per il Bovara, quindi, bisognava avere un corpo insegnante ben strutturato, giovane, laico, aggiornato e costituito da insegnanti che avessero già completato il corso superiore di studi. Poi servivano programmi, orari, un calendario scolastico uniforme e una disciplina in classe. Tutto ciò era inesistente. Bisognava eliminare dai testi di studio i catechismi cinquecenteschi e dare nuovi libri di studio, approvati dal governo, incluso un nuovo libro di catechismo aggiornato al nuovo spirito settecentesco. Suggerì di aprire scuole di disegno d'ornato nelle città, scuole di disegno mercantile nei borghi e semplici scuole elementari nei villaggi, perché si sa, nei borghi ci sono attività artigianali e commerciali, mentre nelle città è necessario poter dare una istruzione di più alto livello. Nelle scuole di ornato, il Bovara richiese di inviare copie di Raffaello, Leonardo, Guido Reni e di altri maestri del disegno. Sostenne poi la necessità di soppiantare una volta per tutte il latino in favore dell'italiano di allora, una sorta di italiano standard che si usava a livello amministrativo e diplomatico e che già accomunava l'attuale territorio nazionale. Il latino bastava insegnarlo per soli tre anni di studio, in un tipo di scuola che potremmo oggi chiamare un protoginnasio. Per il Bovara, solo scuole ben frequentate avrebbero permesso di creare un ceto medio utile negli uffici pubblici e civili di cui tanto si necessitava nelle campagne. La scuola elementare, che il Bovara chiama scuole di leggere, scrivere e conti, dovrebbe essere gratuita, così gratuite dovrebbero essere le scuole di disegno e di matematica superiore. Una specie di scuole professionali primordiali. Le altre scuole, incluse le scuole latine, dovevano essere parzialmente gratuite. Gli studenti o i privati avrebbero dovuto contribuire parzialmente allo stipendio del maestro. Ah, ma quanto era lo stipendio di un maestro secondo i suggerimenti del Bovara? 500 lire annue. Uno stipendio davvero notevole. Pensate che nel 1774, nel testamento del parroco di San Zeno in Brianza, Don Giuseppe Maria Fagnani, si parla di proprietà immobiliari del valore di 1000 lire. E ancora, dai bilanci comunali del 1762, veniamo a sapere che il console comunale, l'odierno sindaco, percepiva un salario di 36 lire, un sagrista 55 lire e l'esattore delle tasse circa 200 lire. Ma dove trovare tutti questi soldi? Dalle confraternite parrocchiale. Durissimo il Bovara, che ricordiamo essere un sacerdote oblato. I consorzi nati nei secoli più scuri hanno alienati gli animi del popolo con indirette devozioni dalle parrocchie. Sopprimendo le confraternite, i buoni cristiani sarebbero ritornati a una devozione più autentica e meno pacchiana. E lo Stato avrebbe incassato molti proventi incorporando legati e altre lemosine. Giusto per dare un contentino, le nomine dei maestri nei paesi potevano essere lasciate ai fabbricieri parrocchiali, ossia al gruppo di persone che aiutavano il parroco ad amministrare economicamente la parrocchia. Il 3 agosto 1775, il conte Firmian, governatore generale della Lombardia, approvava le disposizioni del Bovara, invitandolo ad attuarle quanto prima, proprio nei tre territori di Lodi, Casalmaggiore e Cremona. Nel contempo scriveva ai vescovi di Lodi e Cremona per esortarli ad approvare la soppressione di quelle confraternite che erano socialmente inutili. I vescovi però si mostravano ben poco collaborativi. E quindi il conte Firmian inviò loro il Bovara. Incredibilmente, il Bovara fu un tale diplomatico che in pochi mesi furono concluse le soppressioni e per evitare malcontenti egli stesso fece affiggere il proclama di apertura delle prime scuole pubbliche e gratuite alle porte delle chiese parrocchiali. La gente si convinse che era un'opera buona. La soppressione delle confraternite portò al governo un budget di 34.000 lire con cui fu possibile aprire i concorsi pubblici per l'assunzione dei maestri. Verso la fine del 1775 nelle tre province aprirono le prime scuole elementari pubbliche e gratuite in Italia. Nel chiudere questo video non possiamo non ricordare le nostre maestre elementari dedicando alla loro memoria i nostri sforzi divulgativi. Nel prossimo video di questa playlist vedremo come andrà a finire questa storia delle scuole elementari settecentesche.